Rimase ancora qualche settimana a Montpellier. Aveva raggiunto una certa fama ed era invitato nei salotti, dove lo interrogavano sulla sua vita nella caverna e sulla sua guarigione operata dal marchese. Doveva sempre raccontare la storia dei briganti che l'avevano rapito e del cesto che gli veniva calato e della scala, e ogni volta la ricchiva splendidamente e aggiungeva nuovi dettagli. In tal modo riacquistò una certa abitudine al linguaggio, ovviamente molto limitata, perché con la lingua ebbe problemi per tutta la vita, e cosa più importante, acquisì un'esperienza pratica della menzogna. In fondo, Costatò, poteva raccontare alla gente ciò che voleva. Una volta che aveva preso confidenza con lui, e prendevano confidenza al primo respiro, perché inalavano il suo odore artificiale, credevano a qualsiasi cosa. Acquisì inoltre una certa sicurezza nei rapporti sociali, che non aveva mai posseduto. Si esprimeva persino nel suo fisico. Era come se fosse aumentato di statura, la sua gobba sembrava diminuita. Camminava quasi completamente dritto, e quando veniva apostrofato non trasaliva più, ma restava dritto, e fronteggiava gli sguardi rivolti a lui. Certo, in questo periodo non divenne un uomo di mondo, un idolo dei salotti, o un brillantone in società, ma in lui diminuì notevolmente quel tanto di compresso e di maldestro che aveva per dar luogo a un atteggiamento che fu interpretato come naturale e modestia, o tutt'al più come una lieve timidezza innata, che suscitava commozione in molti signori, e in più di una signora a quei tempi nei circoli mandani avevano un debole per la naturalezza e per una sorta di rozzo charm. All'inizio di marzo prese le sue cose e se ne andò di nascosto. Una mattina, di buon'ora, non appena aprirono le porte della città, con indosso una modesta giacca marrone, acquistata il giorno prima al mercato degli abiti usati, e un cappello logoro che gli nascondeva a metà del viso. Nessuno lo riconobbe, nessuno lo vide o lo notò, perché quel giorno aveva rinunciato di proposito a mettersi il suo profumo. E quando il marchese, verso mezzogiorno, intraprese ricerche, le guardie giurarono e spergiurarono che in verità avevano visto gente di qualsiasi specie lasciare la città, ma non quel famoso uomo della caverna che sicuramente avrebbe richiamato la loro attenzione. Di conseguenza, il marchese fece sapere che Grenoie aveva lasciato Montpellier con suo consenso e si era recato a Parigi per questioni familiari. Ma in cuor suo si irritò terribilmente perché si era proposto di intraprendere una tournée con Grenoie per tutto il regno al fine di reclutare proseliti per la sua teoria fluidale. Dopo qualche tempo si tranquillizzò di nuovo perché la sua fama si diffuse anche senza tournée, quasi senza il suo intervento. Comparvero lunghi articoli sul fluidum letale Teilhard nel Journal des Savants e persino nel Courrier d'Europe. E da lontano arrivarono pazienti mortalmente infetti per farsi guarire da lui. Nell'estate del 1764 fondò la prima alloggia del fluidum vitale che a Montpellier contava 120 membri e fondò succursali a Marsiglia e a Lione. Poi decise di arrischiare il gran salto a Parigi per poter conquistare da là tutto il mondo civilizzato alla sua dottrina. Ma prima, per sostenere la sua campagna con la propaganda, volle compiere un'altra grande impresa fluidale che mettesse in ombra la guarigione dell'uomo della caverna come pure tutti gli altri esperimenti. E all'inizio di dicembre si fece accompagnare da un gruppo di intrepiti adepti al Pic du Canigot che si trovava sullo stesso meridiano di Parigi ed era considerato il monte più alto dei Pirenei. Quell'uomo sulla soglia dell'età senile voleva farsi portare sulla cima alta 2800 metri e la restare esposto tre settimane alla più pura, più fresca aria vitale e poi annunciò ridiscendere la vigilia di Natale come un giovane arzillo di vent'anni. Gli addepti rinunciarono già poco prima di Vernet, l'ultimo insediamento umano ai piedi della terribile montagna ma il marchese non si lasciò intimorire. Liberandosi dei vestiti nel freddo gelido ed emettendo alte grida di giubilo cominciò la salita da solo. L'unica cosa che videro di lui fu la sua silhouette che scompariva cantando nella tempesta di neve con le braccia estaticamente elevate al cielo. La vigilia di Natale i discepoli attesero in vano il ritorno del marchese della Teillade Spinasse. Non tornò né vecchio né giovane. Anche all'inizio dell'estate dell'anno seguente quando i più temerari si misero alla sua ricerca e scalarono la cima del Pic du Canigot ancora innevata non si trovò più nulla di lui. Non un capo di vestiario, non una parte del corpo, non un ossicino. Tutto questo naturalmente non danneggiò affatto la sua dottrina. Al contrario, presto si diffuse la leggenda che si fosse unita in matrimonio sulla cima della montagna con il fluido vitale eterno, che si fosse dissolto in esso ed esso in lui e che da allora in poi alleggiasse invisibile ma in eterna giovinezza sulla cima dei Pirenei. Chi saliva fino a lui diventava parte di lui e per un anno era risparmiato dalla malattia e dal processo dell'invecchiamento. Fino al tardo XIX secolo la teoria fluidale di Teilhard fu propugnata da parecchie cattedre di medicina e applicata come terapia in molte associazioni occulte. E ancora oggi ai due versanti dei Pirenei, cioè a Perpignan e Figueras, esistono loggie segrete di seguaci di Teilhard che si incontrano una volta all'anno per scalare il Pic du Canigot. Là accendono un grande fuoco, dicono in occasione del sostizio e in onore di San Giovanni, ma in realtà lo fanno per rendere omaggio al loro maestro Teilhard Espinas e al suo grande Fluidum e per ottenere la vita eterna. Mentre Grenoy aveva impiegato sette anni per compiere la prima tappa del suo viaggio attraverso la Francia, portò a termine la seconda in meno di sette giorni. Non evitò più le strade animate e le città, non fece più deviazioni. Aveva un odore, aveva denaro, aveva fiducia in sé e aveva fretta. La sera stessa del giorno in cui aveva lasciato Montpellier raggiunse le Grus du Roi, un piccolo porto a sud-ovest di Ege-Mort, dove si imbarcò per Marsiglia su un veliero da carico. A Marsiglia non lasciò neppure il porto, ma cercò subito una nave che lo portò lungo la costa verso est. Dopo due giorni era a Tolone, dopo altri tre giorni a Cannes. Il resto del viaggio lo fece a piedi. Seguì un sentiero che portava a nord verso l'interno del paese, poi su per le colline. Due ore dopo era in cima e davanti a lui si stendeva un bacino di parecchie miglia. Un paesaggio fatto come un'enorme conca, i cui confini tutt'attorno consistevano in colline dai morbidi pendii e in catene di montagne dirupate. Mentre la vasta conca era coperta di campi appena coltivati, di giardini e di boschi di ulivi. Su questa conca c'era un clima del tutto particolare, stranamente intimo. Sebbene il mare fosse così vicino che si riusciva a vederlo dalla cima delle colline, lì non c'era nulla di marittimo, nulla di salato e sabbioso, nulla di aperto, bensì un chieto isolamento, come se la costa fosse distante molti giorni di viaggio. E sebbene verso nord si ergessero le grandi montagne sulle quali rimaneva e sarebbe rimasta ancora lungo la neve, lì non si avvertiva niente di rude o di stentato e non c'erano correnti fredde. La primavera era molto più avanzata che a Montpellier. Una leggera foschia copriva i campi come una campana di vetro. Gli albicocchi e i mandorli erano in fiore e il profumo dei narcicisi si diffondeva nell'aria tiepida. All'altro limite della grande conca, a forse due miglia di distanza, sulle ripide montagne era adagiata o, per meglio dire, incollata una città. Vista da lontano non dava un'impressione di particolare grandiosità. Non c'era un duomo possente che svettasse al di sopra delle case, ma soltanto un piccolo cono di campanile. Non c'era una rocca dominante né un edificio sfarzoso che colpisse l'attenzione. Le mura apparivano tutt'altro che imponenti. Qua e là le case sporgevano fuori della loro cerchia, soprattutto in basso, verso la pianura e conferivano a tutto il circondario un aspetto un po' logoro. Era come se quel luogo fosse stato già troppe volte conquistato e poi sbloccato dall'assalto, come se fosse stanco di continuare a opporre una vera e propria resistenza nei confronti di intrusi futuri. Ma non per debolezza, persì per indolenza o addirittura per un senso di potenza. Era come se non sentisse la necessità di fare sfoggio di sé. Dominava la grande conca profumata i suoi piedi e questo sembrava bastargli. Quel luogo insignificante e nel contempo consapevole di sé era la città di Grasse, da alcuni decenni incontestata a metropoli della produzione e del commercio di sostanze odorose, articolo di profumeria, saponi e oli. Giuseppe Baldini aveva sempre pronunciato il suo nome con estasi rapita. Quella città era la Roma dei profumi, la terra promessa dei profumieri e chi non si era guadagnato i galloni a Grasse non portava a buon diritto il nome di profumiere. Grenoy guardò la città di Grasse con occhi spassionati. Non cercava la terra promessa della profumeria. Non si sentiva allargare il cuore alla vista del nido incollato lassù sui pendii. Era venuto perché sapeva che lì si potevano imparare alcune tecniche per restare il profumo meglio che altrove e di queste voleva impossessarsi perché gli servivano per i suoi scopi. Prese dalla tasca il flacone con il suo profumo se lo picchettò addosso con parsimonia e si mise in cammino. Dopo un'ora e mezzo verso mezzogiorno era a Grasse. Mangiò in un'osteria al limite superiore della città in Place Huer. La piazza era attraversata in lunghezza da un ruscello nel quale i conciatori lavavano le loro pelli e successivamente le stendevano ad asciugare. L'odore era così pungente da rovinare il gusto del cibo a più di un ospite ma non a lui, Grineuil. L'odore gli era familiare, gli dava un senso di sicurezza. In tutte le città per prima cosa andava sempre a cercare il quartiere dei conciatori. Poi quando usciva dalla sfera del Puzzo ed esplorava partendo da lì alle altre zone del luogo gli sembrava non essere più uno straniero. Giro vagò tutto il pomeriggio per la città. Era incredibilmente sporca nonostante o piuttosto proprio a causa della molta acqua che sgorgava da una quantità di sorgenti e fontane. Scorreva gorgogliando in ruscelli e rigagnoli incontrollati giù per la città e minava i vicoli oppure li non dava di fango. In molti quartieri le case erano così fitte che restava soltanto un cubito di spazio per i passaggi e le scalette e i passanti che li attraversavano nel fango dovevano stringersi l'uno all'altro e anche sulle piazze o sulle poche strade più larghe i carri riuscivano a evitarsi a stento. Tuttavia nonostante lo sporco il sudiciume e la mancanza di spazio la città ferveva di attività artigianale. Nel suo giro di ricognizione Grenoil constatò che c'erano non meno di sette saponifici una dozzina di maestri profumieri guantai innumerevoli distillerie pomaterie e spezierie minori e infine circa sette mercanti che trattavano aromi ingrossi. Naturalmente si trattava di commercianti che disponevano di vere e proprie ditte all'ingrosso per il commercio delle sostanze aromatiche. Spesso dalle loro case non si sarebbe detto. Le facciate che davano sulla strada avevano un aspetto borghese medio ma quello che era accumulato là dietro nei solai e in enormi cantine botti di olio, cataste di saponi alla lavanda dei più fini, d'ammigiane di acque e di fiori, di vini, di alcol, balle di cuoio profumato, sacche, cassa panche e casse stipate di spezie. Grenoil lo percepiva al fiuto in tutti i particolari attraverso i muri più spessi. Erano ricchezze che neanche i principi possedevano e quando acuiva l'olfatto annusando al di là dei prosaici negozi e magazzini che davano sulla strada scopriva che sul lato posteriore di queste casette borghesi disposte a schiera si trovavano dimore della specie più lussuosa. Attorno ai giardini piccoli ma deliziosi in cui crescevano palme e oleandri e mormoravano graziose fontane a zampillo circondate da uole si estendevano per lo più costruite verso sud a forma di U le vere e proprie ali della casa, camere da letto inondate di sole e ricoperte da tappeti di seta al piano superiore, saloni sontuosi rivestiti di legno esotico al piano terra e sale da pranzo, talvolta sforgenti nel vuoto come una terrazza in cui si pranzava davvero come aveva raccontato Baldini in piatti di porcellana composate d'oro. I signori che abitavano dietro queste quinte discrete avevano odore d'oro e di potere di solida e consistente ricchezza e questo odore in loro era più forte di tutto quello che Grenouille aveva annusato finora al riguardo durante il suo viaggio attraverso la provincia. Di fronte a uno di questi palazzi camuffati Grenouille si soffermò. La casa si trovava all'inizio di Rue Truat, un'arteria principale che attraversava la città in tutta la sua lunghezza da ovest a est. Non era niente di eccezionale, la facciata era sì un po' più ampia ed elegante di quelle degli edifici confinanti ma non particolarmente imponente. Di fronte all'ingresso principale era fermo un carro con barili che venivano scaricati per mezzo di un piano inclinato. Un secondo carro era in attesa. Un uomo entrò con dei documenti in ufficio, ne uscì assieme a un altro ed entrambi scomparvero nell'ingresso principale. Grenouille si trovava sul lato di fronte e osservava a Landi rivieni. Quello che succedeva lì non lo interessava, tuttavia restò fermo. Qualcosa lo tratteneva. Chiuse gli occhi e si concentrò sugli odori che gli arrivavano dall'edificio di fronte. C'erano gli odori dei barili, di aceto e di vino, poi le centinaia di odori grevi del magazzino, poi gli odori della ricchezza che traspiravano dai muri come leggero sudore dorato, e infine gli odori di un giardino che probabilmente si trovava dall'altra parte della casa. Non era facile cogliere gli aromi più delicati del giardino perché passavano sopra il frontone della casa in scie molto esili e poi scendevano sulla strada. Grenouille accertò un profumo di magnolie, di giacinti, di mezzereo, di rododendro, ma sembrava che ci fosse qualcos'altro, qualcosa di indicibilmente buono che emanava profumo in quel giardino, un odore così sublime come mai in vita sua, o forse una sola volta, era arrivata al suo naso. Doveva avvicinarsi a quel profumo. Riflettè se era il caso di introdursi nell'edificio attraverso l'ingresso principale, ma in quel momento c'era troppa gente occupata a scaricare e a controllare i barili e avrebbe certo dato nell'occhio. Decise di ritornare sui suoi passi per trovare un vicolo o un passaggio che potessero condurre di fianco alla casa. Pochi metri dopo aveva raggiunto la porta della città all'inizio di Rue Drouat. La varcò, si tenne tutto a sinistra e seguì le mura in discesa della città. Poco dopo sentì il profumo del giardino, dapprima debole, ancora mescolato con l'aria dei campi, poi sempre più forte. Infine capì che era vicinissimo. Il giardino confinava con le mura della città. Si trattava proprio accanto a esso. Se indietreggiava di qualche passo, riusciva a vedere i rami più alti degli aranci. Chiuse gli occhi. I profumi del giardino calarono su di lui, netti e ben distinti, come le bande colorate di un arcobaleno, e tra essi ce n'era uno prezioso, quello che gli interessava. Greneux si sentì ardere di gioia e gelare di paura. Il sangue gli salì alla testa come un monello colto sul fatto. Poi scivolò nel centro del suo corpo e risalì di nuovo e di nuovo ridiscese e lui non riusciva a controllarsi. Troppo improvvisa era stata quell'aggressione olfattiva. Per un attimo, per la durata di un respiro, per l'eternità gli sembrò che il tempo si fosse raddoppiato o fosse scomparso del tutto, perché non sapeva più se l'adesso fosse adesso, se il qui fosse qui, o non piuttosto l'adesso fosse allora, il qui fosse là, e cioè Rue de Marais a Parigi, settembre 1753. Il profumo che veniva fluttuando dal giardino era il profumo della fanciulla dai capelli rossi che aveva ucciso allora. L'aveva ritrovato questo profumo sulla terra, lo faceva piangere di felicità e il fatto che poteva non essere vero lo spaventava a morte. Divennero le vertigini, barcollò un poco e dovette appoggiarsi al muro e lì si lasciò scivolare lentamente a terra a gambe piegate. Raccogliendosi e cercando di tenere a freno il suo spirito, cominciò a inalare il fatale profumo con ispirazioni brevi, meno rischiose, e constatò che il profumo dietro al muro era estremamente simile al profumo della fanciulla dai capelli rossi, ma non del tutto uguale. Naturalmente proveniva anch'esso da una fanciulla con i capelli rossi, su questo non c'era dubbio. Nella sua immaginazione olfattoria, Grenouille vedeva questa fanciulla davanti a sé come in un quadro. Non stava ferma, ma saltava qua e là, si accaldava e poi si riacquettava. Evidentemente giocava un gioco in cui bisognava muoversi rapidamente e poi rapidamente fermarsi con un'altra persona dall'odore, peraltro assolutamente insignificante. Aveva la pelle di un bianco abbagliante, aveva occhi verdastri, aveva lentiggini sul viso, sul collo e sul seno, cioè Grenouille trattenne il respiro per un attimino, poi annuso a fondo e cercò di richiamare il ricordo olfattivo della fanciulla di Rue de Marais. Cioè questa fanciulla non aveva ancora seno nel vero senso della parola, aveva soltanto un accenno di seno, aveva appena un inizio di curve di seno, infinitamente delicato e dall'aroma esile, picchiettato di lentiggini che cominciava a gonfiarsi soltanto da pochi giorni, forse soltanto da poche ore, in realtà da quel momento. In breve, la fanciulla era ancora una bambina, ma che bambina! Grenouille aveva la fronte sudata, sapeva che i bambini non hanno un odore particolare proprio come i fiori, che prima di fiorire sono tutti verdi. Ma lei, questo fiore ancora chiuso dietro le mura, che spingeva in fuori le prime punte odorose, che Grenouille e nessun altro tranne lui aveva appena avvertito, già ora aveva un profumo così divino da fare rizzare i capelli e quando fosse sbocciata in tutto il suo splendore avrebbe emanato un profumo mai sentito al mondo. Già ora è migliore di quello della fanciulla di Rune-Marie, pensò Grenouille, non così forte, non così intenso, ma più fine, più sfumato e nello stesso tempo più naturale. Fra un anno o due questo profumo sarebbe stato maturo e avrebbe avuto un potere cui nessun essere umano, uomo o donna, sarebbe riuscito a sottrarsi e la gente sarebbe stata sopraffatta, disarmata, inerme, dinanzi alla magia di questa fanciulla e non avrebbe saputo perché. E poiché gli uomini sono sciocchi e usano il naso solo per sbuffare, ma credono di capire tutto e tutti con i propri occhi, avrebbero detto che era perché questa fanciulla era dotata di bellezza, di grazia e di avvenenza. Nella loro limitatezza ne avrebbero dato i tratti regolari, la figura snella, il petto ineccepibile e i suoi occhi, avrebbero detto, sono come smeraldi e i denti come perle e le sue membra lisce come avorio e avrebbero fatto tutti i possibili paragoni idioti e l'avrebbero eletta regina dei gelsomini, sarebbe stata dipinta da stupidi ritrattisti, il suo ritratto sarebbe stato guardato a bocca aperta, avrebbero detto che era la più bella donna di Francia e i giovani avrebbero trascorso le notti sotto la sua finestra, uggiolando al suono dei mandolini, vecchi signori grassi sarebbero caduti in ginocchio davanti a suo padre implorando la mano di lei e donne di ogni età avrebbero sospirato al vederla e in sonno avrebbero sognato di essere seducenti come lei soltanto per un giorno e nessuno di loro avrebbe mai saputo che in verità non era il suo aspetto averli resi schiavi, non la sua presunta bellezza senza macchia ma unicamente il suo incomparabile, stupendo profumo. Soltanto lui l'avrebbe saputo, lui, Granoi, lui solo, anzi lo sapeva fin d'ora. Ah, voleva avere questo profumo non in modo inutile, goffo come una volta aveva avuto il profumo della fanciulla di Rude Mare. Quel profumo l'aveva bevuto con avidità e quindi l'aveva distrutto. No, il profumo della fanciulla dietro il muro voleva davvero farlo suo, voleva staccarlo da lei come una pelle e farne il proprio profumo. Come sarebbe accaduto non sapeva ancora, ma aveva due anni di tempo per impararlo. In fondo non poteva essere più difficile che capire il profumo a un fiore raro. Si alzò, si allontanò quasi con riverenza, come se lasciasse qualcosa di sacro o una donna addormentata, curvo, pian piano, affinché nessuno lo vedesse, nessuno lo udisse, nessuno si accorgesse della sua preziosa scoperta. Così scivolò lungo il muro fino al limite opposto della città dove infine il profumo della fanciulla svanì ed egli ritrovò l'accesso alla porta dei Fénant. All'ombra delle case si fermò, l'esalazione puzzolente dei vicoli gli diede sicurezza e lo aiutò a frenare la passione che l'aveva sopraffatto. Dopo un quarto d'ora aveva riacquistato tutta la sua tranquillità. Per prima cosa, pensò, non sarebbe più andato nei pressi del giardino dietro il muro, non era necessario, lo agitava troppo. Il fiore là dietro cresceva senza il suo intervento e lui sapeva come sarebbe cresciuto. Non doveva inebriarsi del suo profumo anzitempo, doveva buttarsi nel lavoro, doveva ampliare le sue cognizioni e perfezionare le sue capacità artigianali ed essere preparato per l'epoca della raccolta. Aveva ancora due anni di tempo.